Ok, andiamo. Gli blindato per te. Vado, non voglio guidare. Grazie per sharing! Bye! Ho giusto la macchina del cazzo. Non ho letto cosa ho detto. Mi ha fatto tutto. La macchina del cazzo. Ok, la tua moto. Ok, la tua moto. Scendi. Ok, sono due... Sono due... Ok. Ti diverti? No, eh. Scendi pure, eh, se vuoi. No, dico... Ah, vieni. Ok. Ah, ecco come funziona così. Ok. 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 Ma che vuoi che sta arrivando un altro carro ormaiato dietro? Oh no, per finire, dai dai voglio andare in bronzo. Ma dove cazzo mi ero bloccato questo tipo? Guardate che roba. Ok, buono. E anche questo è fatto. Guardate che mi comincia a fare un mare. Un po' presto. E invece no. Ma mi spiegate dove cazzo sarebbe il garage che non ho nessuna minchia di rifugio? Allora, guardate che non ho nessuna minchia di rifugio. Allora, abbiamo fatto la missione secondaria e adesso facciamo quella principale. Scabri come danno i giorni negli eri. Sì, tranquillo. Faccio. Cioè, no, aspetta, non è facile. Siamo andiamo a... Cioè, no, aspetta, non è facile. Non lo so. È un anus. Allora, però posso... Ti pare che ce n'è uno solo in tutta la città? Oh, no. Uh, yeah! Minchia, guardate quanti. Non ci crederò mai che non ce l'hai fatto. Sì, vabbè, ecco, faccio. Sì, vabbè, ecco, faccio. Aspettate. Lo pigli? Grazie. Giù. No, non ci credo, minchia. Mi sembrava di essere più avanti. Non si capisce una sega. Non si ha il senso di prospettiva in questo gioco. Andiamo. Lì, dice, ci arriviamo. Eh, il cazzo, ci arriviamo. Il cazzo, ci arriviamo. Dove vado? Vabbè, fanculo sti cosi. No, aspetta, quello però volevo dire. Qui dico, fanculo sti cosi, però lì vado avanti a pigliare, perché mi servono. Va a cagare ogni volta. Mi chiamano. Non pensi dovevo mettere il fargino. No, perché mi ha fatto super salto così. Mi chiamano, sì, ma... Ecco, va in casa. Onis. 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 Oh, merda. Dai, cazzo. Dai, qua ne ho visto uno. Lì. Lì. Salta. Non fare il pirla, salta. Non fare il pirla. Oh, no. Oh, no. Cazzo, però hanno messo come... Hanno messo le macchine nuove, no? Hanno migliorato la modalità di guida, però ti hanno messo questa roba, perché praticamente sei obbligato, perché hai bisogno di sti cosi da prendere. Non puoi prendere con la macchina, devi per forza usare super salto. C'è, non ha senso. Che culo l'ho preso a cura. No, questa è la mia bimba. Guardatela. È lei. È lei. Vieni qua. L'attrazione. La mia macchina. Ecco, diciamo. Eh, guarda. La mia piccola di Senzorotra, eh? Ho seguito la serie. Cioè, non so perché, a me la seconda vista, mi sono innamorato. Jesus, cosa ha fatto? Guarda il尺e di quella cosa. Sempre si sembra più grande in fotografie. Focasi sui generatori di shield, altrimenti non avrai mai arrivato alla console principale. Ma non pericolo. Ah, già è vero, ci sono i nemici. Mattimi provare. Easy. Easy. Oh, ci sei ancora. Aspetta che arrivo, va. A te ti faccio con il joystick perché mi sei tutta. Olè. Devo disattivarli o distruggerli proprio? Devo disattivarli. Cos'è che è? Si cambiano? Ah, no, il fucile. No, no, no. Ah, con pistola piena. Allora, proviamo. Ah, che cazzo. Questa sarebbe la pistola mia. Che schifo. Allora, dammi la mia pistola. Allora, dammi la mia pistola. Per favore, mi fa cagare. Allora, scusate che non mi stavo dimusicando. E' un po' di più. Aspetta che volevo prendere queste macchine. Andiamo via questi. Ah, tieni. Ah, ti serve un hacker qua. Andai la forza buona. Guarda. Però non ho ben capito la missione iniziale C'è Ah noi siamo diventati Ah si no niente Abbiamo dimenticato Di come finiva Siamo diventati presidenti dell'America Ma stai scendendo Facciano un po' Adesso sto crepando ragazzi Crepo qui ci crepo Fanculo Dammi il mio vitra Non so perché hai ripreso la pistola Ma non ha già te Sì ma che palle sta cosa Non si ricarica più la vita Hai bisogno di sta roba Vieni Come Ok Sì Ma Come lo distruggo Dai che ci arrivi Oh, ho fatto lo scudo No Dammi lo scudo Probabilmente neanche, oh Non pensi a andare, oh No, non pensi Guarda questi Non pensi a andare qui, farai quello che voglio Let's do this Non so, non so Non so Non so Non so Non so I'm showing some strange readings close to you Ok Fiery sky All right I don't know Mostra di un profiteraga è un bloc Non so E io credo che puoi integrare il tuo codice con lui? E questo significa cosa? Significa che quando ti prendi l'acqua, si trovi abbastanza e io credo che puoi absorberlo. Sì, perché voglio questo dentro di me. Exit solo. E' un'altra cosa. Occhio! Oh! Ah, ma... Cazzo può sparare. Dov'è, dov'è? Eccolo! Ah, ma che cazzo? Boom! Ah, sì, vabbè. Ah, vinco io, vinco io, vinco io, ma stavo! Vinco io, vinco io, vinco io! Oh, woo! Now that's a rush! Hey, it worked! Sì, bravo! Perchè, i miei warden hanno underestimato te. Noi non mi lascio faranno il stesso errore, troppo. Eh, non può essere bene. Noi non mi lascio. Ok, proviamo qualcosa di nuovo che abbiamo sbloccato. Quindi, cosa ho fatto? Teleportazione? Laservision? Oh! Boneclaws? Ah! Ah! C'è una scarica congelante! Ah! C'è una scarica congelante! Ah! C'è una scarica congelante! Ah! Ah! Devo caricare. C'è una scarica congelante! Ah! C'è una scarica congelante! Ok! 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 C'è una scarica congelante! Che è questo? Oh! 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 Hell of an entrance there, guy! I'll see if I can help with that. Ok, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zyniak added a shield to the warden code. I guess you pissed him off. You think? Tell me how to get around it. You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. I should kill through. I should kill you immediately! Not beat me back in a Brothers! Marfor! You müsst who claim that. This is kinda trying to even chase and chase and escape from the past. Isn't it fucking the ordeal in the��? Let's punishing I can help! Attach me to somehow, start doing the power then. Okay, that's just me that. Da punto die, leg by no ones. Sì vabbè Scusami eh Era congelato Tre ore Ma vuoi che fare un attimo Scusa eh Mi ha qui personale Grazie Sì Ora funziona bene Ma la cosa reale Potrebbe essere un po' più difficile Ok bene Sì ho capito Quindi abbiamo sbloccato L'abilità Per congelare i nemici Che si è sparata a questo Mi dà Allora Not bad Sì Scappa dalla simulazione Questa è un po' più difficile Questa è un po' più difficile Sempre così cazzo Non è possibile Non c'è un po' più difficile Ma non c'è Non ce lo fai saltare Cristo Ragazzi Ma vaffanculo 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 Basta Mi sono rotto le fasi Basta Allora Abbiamo un attimo Che ho dei poteri Non c'è un po' più difficile Non c'è un po' più difficile Non c'è un po' più difficile E' un po' più difficile Non c'è un po' più difficile Non c'è un po' più difficile Non c'è un po' più difficile Voglio provare anche questo Invece qui Che cosa ho svilocato Che non mi sono creato Ma si Quindi fatemi capire Se io salto E poi faccio così Oh Plano Alla propria E style Salta Chris tu Aspettate no Prima di andare in quella cazza di porta Aspetta Oh Occhio Uno No No Figuriamoci Occhio Siamo tornati nel mondo reale, più o meno reale, perché non mi sembra che abbiamo gli alieni sotto cazzo, perché cazzo? Ecco, di nuovo nudo come nel 3, è uguale, eh perfetto, ed è in questi casi che mi dico di non aver fatto, ah no, arrivo ragazzi, arrivo, 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 C'è ancora il coso? Per il coso intendevo, il tablet, eh? C'è la stazione del cazzo, c'è una stazione del cazzo. C'è qualcosa? Non sento che... Ma che cazzo? Stai attento dietro, mi piacere a guardarlo lì, non pensi a qualcosa. Ah, I need to get that platform. Ancora, Ranky. Possiamo andare avanti? Adesso l'ho vita ancora. Ah, where's Kinsey? Sì, no, no, no. Io niente. Cristo, bring that! Cazzottissimo, ah? Stigio, vai! Spossato qua? No. Non è in Kansas. Ha detto Kansas, 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 come si dice. Sono un ignorante. Non è come come home, it's all. What'd you bring me? Come I never go on any raids? I got the same problem. I never get to just sit down and relax without being pestered by... Hey! Non so la fa' que le fermi che erano girati là. Erano girati dall'altra parte. Risi. in personale, I'm supposed to report any of all this placement of this Pokemon, at least see Voldemort! La fa' cheihi. Oh, ma è l'altra parte. Ancora di Uto. Bastardo. Usiamo un po' un mouse. Facciamo qualche kill, bella. Andiamo ancora e l'altra parte qua. Ah, I hope you're on your way, Kinsey. Ho fatto un hatcher della madonna Via Hatcher Con il mouse si che facciamo le belle All soldi sono arrivati A che di potere Con il motore Inizio Si rispondi Tutti Il modo di pirata Perfetto Ma che cosa E' stato fatto Un'amera Ho fatto un'amera 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 Quotà Un'amera 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 Che cosa Un'amera 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 Mi sarebbe piaciuto fare anche Mafia 2 ragazzi, non ci stavo pensando, solo che non mi piaccia molto di un giocatore. C'è un percorso da lì dove vuole che... Oh fuck! Ah no, ok. Tell Sinyak, I'm coming for him. Forse c'è una barba, giù forse. Don't worry, I'll be there, bleh bleh bleh. Fuck. I kill enough of you, I'll just build a ladder back to earth. Come on, I'll kill every last one of you. Palle di arma, non ne ho un'altra. Eh, bellissimo. Andiamo a stoppilare. Ma ma che cosa, che cosa c'è? Non lo so. Ma sì, mettici l'olio, mettici il sale, mettici lo zucchero. Ma non lo so. E' vabbè ragazzi, guardate che c'era, c'è un po'. Eh, vabbè ragazzi, guardate che c'era, c'era un po'. ico in attivo. Come da, vabbè ragazzi, guardate che c'era un po' di casa. Vabbè ragazzi, guardate che c'era un po' di casa. I picked the right running man. Damn right. Let me take the stick. I'm getting us out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. This just got weird. A little bit. Can I fly now? Knock yourself out. Kinsey, porcellina. Ma ragazzi, son già, son già 22 minutes. Wait, wait, wait a minute. You saved Keith David before me? Why? Because he's more famous? Fuck this. I, uh, passed by him on the way out. Well, how did you get out? Let's just focus on flying, shall we? Ah, you're right. Kinsey, this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Oh, yeah. This is my jam. I'm pretty much preferring to the pilot. Oh, wait a minute. My showdown? Oh. 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 Eh dai minchia, ricomincio l'appunto di controllo, madonna santa. Ma posso sparare? Non lo sapevo niente. Appagno. Credo che vedevo anche il mirino, ma non ci so arrivato subito, magari sono un genio. Sì, ma non ci capisco una sega. Minchia, occhio qui, eh, se trepo mi dica. Giù! Madò! Aspetta, no. No, dai, no. Sto entrando in trip, ve lo dico. Oh, no, no. No, e dai, porca troia, tutto da capo. Cristo! Che palle. Dai. Dai, no, dai, contro che cosa, minchia, madonna, madonna, ma non è possibile. Kenzie, questo ha un radio. Radio? C'è, c'è. Che cosa? Basta, basta, non me posso dire. Oh, che cazzo adesso? No, ehi. Occhio. Occhio. Qui continua a cremare. C'è, destra. Vai giù. Miglia. Madonna. Occhio, occhio, occhio. Do a barrel roll. Spendere il ship, dammit. Ma dai, deti osso. No, no, dai, ma porca puttana, ma che rotura di cazzo, però, mamma mia. Cioè, ma io non posso crederci, Cristo. Per ogni volta sempre da capo, ma che palle. Do a barrel roll. No, no, non è vero. Spendere il ship, dammit. Mamma mia, ormai non devo rifare da bravo. Per un cazzo di punto di controllo. Questo cazzo di tutto. They're closing us in! Stay on target. Ahia. Haha. Oh ho. Haha, coglioni. C'ho fatta, stronzi. Oh. Ciao, spendiamo, ma stai. We're not really leaving the others, are we? Hell no. We're taking the fight to Zinyak. We'll need all the help we can get. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. I need to teach you. Huh. I always thought Nightblade was just a vampire show. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 airy code? Is that Seth Lewis? You probably tell Malki. Oof. Ignore. Oh, fuck. Oh, it's better care. You want me to leave a message? It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed seven billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able to do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole dead thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Zinyak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized. And a course was set that the saints could never back down from. But even more monumental is this. If the earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation. And the saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history. Johnny Gatt. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action. And the building of a robot. Oh, energy. Okay. Okay. Come on. Come on. Come on. Come on. Bello. Come on. Come on. Ah no. Okay. Okay, guys. Ci vediamo alla prossima puntiatella. Bella a tutti. Ciao.